Allora come potete vedere oggi video di nail art sulle mie unghie e andrò a fare una nail art secondo me particolare come nail art perché andremo a fare uno zebrato praticamente andremo a fare una riga qua nera e poi qua tutto zebrato praticamente e dico particolare perché lo zebrato al solito non è un art particolare come anche l'ho pardato però questo ancora di più col fatto che c'è questa riga di nero delato secondo me e poi secondo me come nail art è anche molto elegante e niente andrò a utilizzare i colori acrilici per questo nail art oltre gli smalti va bene cioè i colori acrilici andrò a utilizzare per fare lo zebrato il nail art ecco però come smalto base ovviamente c'è utilizzo gli smalti ecco niente vi lascio a video e ci vediamo no Grazie a tutti. 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 E niente, questa qui la Nell'Art è finita. A me mi piace veramente, è da impazzire tantissimo. Tanto tanto bella. Io spero che piaccia anche a voi. Quindi se è stato così sotto il video commentatemi, fatemi sapere cosa ne pensate a questa Nell'Art. E spollicciate il video mi raccomando. Io niente, vi saluto, vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!